Per me è stata ottima, dieci e lodi, insomma, meglio impossibile, perché mi avete coccolato tutti, dal prima telefonata che abbiamo avuto noi due fino alla nascita del libro. Mi avete seguito in tutti i modi, millimetro a millimetro, qualsiasi problematica che avevo subito eravate voi dietro a risolvermela, insomma, mi sono sentita veramente molto al mio agio, come a casa mia, insomma, con delle persone molto umane, veramente, e molto disponibili, perché quello non è da poco, nei giorni che viviamo. Veramente ottimo, io lo raccomanderei a tutti, perché non è che sei tu l'autrice del libro, a parte, o tu che dici, te l'hai scritto tu, te l'hai autopubblicata, no, perché dietro c'è tutto un team di persone che senza loro io non avrei fatto niente, per la verità.